ed eccoci qua manovra di avvicinamento al volo dell'angelo questo è il sentiero a piedi rigorosamente una ventina di minuti che parte da una chiesetta sopra castelmezzano e ci porta in cima al dirupo da dove parte la carrucola di una delle due vie del volo dell'angelo che collega castelmezzano con pietrapertosa un'altra per chi volesse provare anche il ritorno da pietrapertosa fino a castelmezzano un minuto di pura adrenalina circa 1400 metri di distanza velocità media fra i 110 e 120 chilometri all'ora vediamo come va come è andata sono terrorizzato no bellissimo davvero emozionante e sono bellissime queste dolomiti lucane ti è piaciuto? sì moltissimo chi aveva più paura dei due? mi sa io il volo in coppia mi ha detto che quella più leggera balla un po' di più è vero? allora ero così poi andavo un po' dietro è stato un po' da rifare assolutamente per fortuna c'è anche il ritorno ci siamo adesso mi imbrago e poi parto ragazzi sono pronta eh volo dell'angelo viaggio di andata grazie ciao siamo atterrati dopo un minuto di adrenalina pura un'esperienza bellissima da ripetere assolutamente anche se confesso prima di partire qualche timore l'avevo però davvero è incredibile donatello caivano amministratore unico volo dell'angelo io sono senza parole credo che molti abbiano reagito così al primo volo sì probabilmente perché non si aspettano come dire di volare nel vuoto a 400 metri e arrivare a 120 chilometri in 80 secondi di adrenalina pura e poi vedere le dolomiti lucane è bellissimo perché paesaggio incomparabile meraviglioso in queste guglie stupende ma questo è nato un pochino come una scommessa ed è diventata un'attrazione famosa non solo in basilicata in tutta Italia questo è diciamo che è il primo volo dell'angelo in Italia è nato nel 2007 è stato inaugurato sono 11 anni che che diciamo funziona e con più di 120 mila voli effettuati vengono da tutte le parti del mondo dalla Corea al Giappone ovviamente Francia Spagna e Svizzera per l'Europa ma veramente da tutte le parti del mondo fino ad allevare ad Australia e Nuova Zelanda quindi diciamo una scommessa anche vinta dal punto di vista proprio dell'impostazione del modello economico di sviluppo locale tra l'altro ha dato anche tanti posti di lavoro e ce n'era sicuramente bisogno ha ridato vita a un territorio che altrimenti rischiava un poco di perdersi questo lo dobbiamo ricordare vogliamo anche ricordare quando si vola in che periodo chi può farlo? assolutamente sì si vola dal primo maggio all'11 novembre tutti i sabati e le domeniche ovviamente fino a metà luglio poi da luglio tutti i giorni fino a metà settembre poi nuovamente i fine settimana si può volare dai 12 anni in poi accompagnati da un adulto per il volo in coppia invece dai 16 anni tranquillamente da soli fino ai 90 anni 100 anni che esattamente 91 anni il signore più anziano che ha volato volare non è l'unico modo per godersi le dolomiti lucane si può arrampicare con le vie ferrate ma poi non è nemmeno sempre indispensabile sfidare la gravità ci sono tanti percorsi comodi uno però è particolare ed è quello delle sette pietre dove ci troviamo in questo momento che tra l'altro ci porta a scoprire anche dei luoghi inusuali come questo vecchio mulino esattamente sopra al capperino questo corso d'acqua che separa Castelmezzano e Pietra Apertosa ma questo percorso delle sette pietre in realtà è un progetto che ha recuperato un antico sentiero contadino che collega appunto i due paesi arricchendolo di suggestioni e di installazioni che si ispirano ai racconti di streghe tramandati di generazione in generazione e che si fondano sul testo di Mimmo San Martino Vito ballava con le streghe un testo che peraltro ci fa anche ripensare al volo da cui siamo partiti ma le streghe chi erano che ruolo avevano che cosa significavano per delle popolazioni che di fatto vivevano molto isolate le streghe erano figure assolutamente ambivalenti erano da un lato figure del rischio anche dello spavento ma poi erano anche le figure che erano le donne soprattutto donne non solo ma anche soprattutto donne che riuscivano a trovare le soluzioni ad aiutare a una comunità a trovare le soluzioni per affermare la propria possibilità di essere nel mondo nonostante quel mondo fosse un mondo difficile, aspero, nel quale si avvertiva l'incombere rischioso e minaccioso della natura, del destino, della fatica, della vita e della morte io quando ho fatto l'esperienza del volo dell'angelo nel timore mentre facevo la traversata per rassicurarmi mi sono detto io già l'ho scritta questa storia ed è il quattordicesimo capitolo di Vito ballava con le streghe in cui si dice le pietre del mondo di sotto guardarono con invidia Vito e la strega a sollevarsi dalle vigne, dagli orti e dagli acquitrini dalle fatiche e dalle malinconie della terra Provata l'ebbrezza del volo, davvero un'esperienza bellissima, siamo atterrati, è il caso di dirlo, qui a Pietrapertosa e se Castelmezzano è stato costruito a quasi 900 metri di altezza forse per difendersi, anzi sicuramente dalle invasioni saracene, qui a Pietrapertosa siamo ancora più in alto, infatti con i suoi 1.088 metri circa è il comune più alto di tutta la Basilicata, anche qui tutto è in funzione della roccia le case seguono l'andamento del terreno e si vede benissimo nel quartiere arabo che è quello la sua arroccato alle nostre spalle perché qua sono arrivati i saraceni spesso una parete è ricavata dalla montagna, le scale sono scavate nella roccia e su tutto svetta il castello, una vera e propria fortezza certo costa fatica a raggiungerlo però ne vale assolutamente la pena perché da sopra dal castello il panorama è magnifico e lo sguardo può spaziare tutto attorno su una natura splendida che è la natura tutelata dal parco di Gallipoli Cognato che si estende per oltre 27.000 ettari e abbraccia oltre a questi due comuni Castelmezzano e Pietrapertosa che sono in provincia di Potenza anche altri tre che sono in provincia invece di Matera. La salita è un po' faticosa ma vale sicuramente la pena, alla fine il regalo è questa vista davvero siamo sul tetto della Basilicata, questa è la rocca, il castello di Pietrapertosa qui con me è Rocca Maria Cavuoti, sindaco, allora è una cartolina bellissima, questo paese dà la storia antichissima perché questa era la rocca, la fortezza dei Saraceni e tutto il quartiere che ha i piedi è il quartiere arabo. Sì, siamo nella fortezza Saracena, sorta intorno all'838 perché il re Bomar è giunto qui da noi e ha fatto di questo posto la sua rocca forte, inespugnabile per tanti anni. Un paese piccolo, leggermente più grande, un pochino più abitanti di Castelmezzano che però davvero è una pagina, tante pagine di storia perché poi abbiamo il convento, abbiamo la chiesa madre, degli affreschi bellissimi e poi là alle nostre spalle appunto Castelmezzano, due paesi separati da una gola che però nonostante in Italia i campanini facciano anche tanti danni riescono a lavorare perfettamente assieme. Il Volo dell'Angelo, questo attrattore che ogni anno porta qui milioni di visitatori ha unito i due paesi e quindi collaboriamo alla grande e andiamo avanti, abbiamo sviluppato e svilupperemo ancora di più i nostri paesi appunto collaborando. Paesaggi splendidi, emergenze architettoniche altrettanto e anche la gastronomia ricchissima, qualche anticipazione l'avete già avuta però adesso siamo a Pietrapertosa e allora vogliamo capire quale può essere il menù tradizionale. A farci da guida Michele Folino del ristorante Locanda di Pietra, allora in tavola la tradizione cosa porta? Intanto cerca di portare il territorio e quindi quello che il territorio esprimo, significa portare dei formaggi di caprino, di pecorino, di animali a pascolo, significa salumi di suini neri allevati allo stato brado, significa peperoni cruschi, significa pasta fatta in casa, significa pezzende che è questa salsiccia povera che si è sempre usata in Basilicato, diciamo tutto ciò che è grande attenzione alla qualità e all'eccellenza gastronomica. I prodotti che ci ricordano la montagna perché non dimentichiamo che siamo a mille metri d'altezza. Siamo a mille metri di altezza quindi diciamo prodotti legati molto alla montagna, di pesce abbiamo addirittura il baccalà che è il pesce dell'appennino e quindi anche qui c'è una forte tradizione che viene servito con i peperoni cruschi o con i pomodori gialli o addirittura con una zuppa di ceci sia gialli che neri. Quale può essere la ricetta simbola? La ricetta simbolo io aggiungerei il pasticcio che è un piatto che si fa nelle feste natalizie viene fatto con uova, formaggio, salsiccia lucanica e toma che è un formaggio di primo sale delle nostre pecore. Io direi buon appetito a tutti e con questo menù ricchissimo e delizioso, splendido come questa terra, si chiude anche la nostra puntata di Con i frutti della terra. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti, l'invito è quello di seguire noi, di ritrovarci fra sette giorni ma anche di venire a visitare le Dolomiti Lucane che sono davvero splendide. in collaborazione con me Grazie. 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 Grazie.